Carlo Guardino responsabile dei portatori della Madonna del Soccorso che quest'anno avranno un adempimento, dovranno fare qualcosa prima della processione, ricordiamolo. I portatori della Madonna del Soccorso che quest'anno devono portare tutta la fotocopia della tessera perché c'è una direttiva del ministro dell'interno per ordini di pubblico e allora impegno a tutti, ai portatori della Madonna, di portare la fotocopia della tessera al commissariato oppure alla chiesa. Come vi state preparando voi a questo momento che è molto importante per i marinai e in particolare per i portatori della Madonna? Noi ci stiamo preparando e ci stiamo organizzando d'accordo con i portatori della Madonna di dare un ordine pubblico e nel stesso tempo a tutti i portatori della Madonna di essere più consapevoli e responsabili di portare la Madonna con vede, con sacrificio verso la Madonna del Soccorso. Con questo riguardo alla Madonna del Soccorso dobbiamo essere più uniti, più consapevoli, più rispettarci uno con l'altro nello stesso tempo perché non succede quello che è successo qualche anno passato. Complessivamente sono una novantina i portatori della Madonna che poi si alternano durante il percorso ma voi ricevete anche tante richieste perché tanta gente vorrebbe entrare a far parte del gruppo? Senza dubbio, le richieste sono tantissime, purtroppo per portare la Madonna almeno ci vogliono 80-90 persone, più i timonieri, però le richieste sono tantissime ogni anno e ci sono troppi quelli che vogliono portare la Madonna. Tutti quelli che vogliono portare la Madonna quest'anno possono fare un'altra opera di carità nel senso in dubbio di aiutare nei cordoni, aiutare lateralmente alla Madonna e ai portatori della Madonna, diciamo che ci sono aiuti lateralmente per dare spazio, per dare ordine pubblico. Questo riguarda quest'anno l'ordine che dobbiamo richiedere alle persone. Vice sindaco Bellanca, quali saranno le novità della processione di quest'anno? È corretto parlare di una processione blindata o comunque è molto più sorvegliata rispetto al passato? Diciamo alcune prove che riguardano l'antiterrorismo, prove intendo dire poi realizzate, si sono fatte già con la processione del 2 di febbraio che riguardano i blocchi per la chiusura di alcune strade ovviamente che insistevano nel percorso della processione. Quest'anno a differenza di quella del 2 febbraio c'è una nota, una circolare del capo della polizia che è del 27 giugno che ovviamente obbliga gli enti organizzatori e i comuni a dotarsi di alcune altre misure di sicurezza non tanto più per il discorso dell'antiterrorismo ma per il discorso di quello che è successo in piazza San Carlo a Torino e su questo si sta lavorando. In particolare già nei giorni scorsi sono uscite delle notizie riguardo alle vie di fuga che dovranno esserci, questo è uno degli elementi di novità? Sicuramente sì, ci saranno delle vie di fuga individuate anche con della segnaletica fatta appositamente e ci saranno ovviamente dei presidi sanitari. Tutta l'organizzazione c'è un piano diciamo che è quasi pronto e al vaio ovviamente del dirigente del commissariato e della questura e nelle prossime ore sicuramente ci saranno i dettagli. Ci saranno degli uomini e si parla di una trentina di uomini almeno alcuni dei quali messi a disposizione dal comune altri anche dalla basilica della Madonna del Soccorso oltre che i rappresentanti delle forze dell'ordine che terranno un po' distanti le persone dalla vara? Sì, ci sono alcuni punti critici del percorso ovviamente della processione e si è concordato appunto anche con tutti diciamo ognuno per la propria parte di avere delle unità che possono agevolare il percorso principalmente la parte davanti, la processione perché devono avere più spazio possibile proprio per andare senza pericoli. Comunque la gente potrà assistere tranquillamente, sono alcuni limiti ma la partecipazione è assicurata? Assolutamente sì, la processione è impossibile non partecipare anche perché la processione è una cosa sentita dai saccensi e anche dai saccensi che stanno fuori perché ricordiamo che nel periodo di Ferragosto è molto più partecipata sia per la presenza di turisti ma anche per la presenza di tanti saccensi che vivono fuori.